Iachimostri, benvenuto a Bari, inizia una nuova avventura. Grazie mille. Questa nuova avventura come la vedi? La vedi molto bene, sono molto contento. Grazie per la società, grazie per questa società, perché mi ha dato questa opportunità. Sono molto contento, ho fatto tutto per arrivare e per fare buoni risultati. Per i nostri tifosi, per questa società. Bari è una grande squadra, grande società, con grandi tifosi. Sono contento perché sono oggi qua e una mia soddisfazione per me è il gioco per Bari, un onore. Adesso sono concentrato al 100%, solo per oggi e basta. I tifosi del Bari ti ricordano per un assist che è sfruttato da Gans? Sì, è per un sbaglio, per 2-0. Eh sì, questa è una buona partita per me, però buona partita per tutte e due squadre. Mi manca solo gol in questa partita, però vado in questa situazione e è bene. Una grande squadra, i risultati dici tutto. Bari è quarto in classifica, gioco per Serie A. Speriamo che questo anno vinciamo Serie B e andiamo in Serie A il prossimo anno. Tutta fascia a sinistra, le caratteristiche. Cosa si vede a campo? Quando mi vede a campo queste mie caratteristiche. Non vuoi parlare di me, cose. Tutto... Potresti giocare anche nella fase difensiva, in difesa? Sì, sono un po' orientato per attacco, però non mi manca difensiva. Sono disciplinato in difensiva, ho fatto prova e ho fatto tatticamente bene.